buongiorno ragazze come potete vedere mi è appena arrivato il nuovo iphone e ho preso questo qua verde iphone 11 da 128 giga e adesso lo spacchetteremo insieme vediamo un attimo qua mi sa che avrò bisogno del cavalletto quindi aspettate un attimo eccoci qua ho posizionato il cavalletto che bella sensazione la pellicola che figo figo è bellissimo questo colore cioè dal vivo è ancora più bello è bellissimo cioè guardate cazzo è troppo bello c'è già una ritazzata ma quando c'è la pellicola è bellissimo cioè oddio sono emozionatissima pellicola tolta ecco l'accensione questo è il mio primo iphone che prendo non ho mai preso iphone ho sempre usato samsung quindi mi dovrò anche abituare giustamente ho anche preso una pellicola trasparente in silicone appunto per non coprire il colore dell'iphone che appunto ho preso verde apposta comunque funziona è bellissimo e con questo io vi saluto adesso lo configurerò e poi vi farò sapere magari farò anche un what's on my iphone comunque qua ci sono tutte le solite cose ci sono il caricatore le cuffie il cavo per caricare il telefono e niente io vi saluto vi mando un bacio mettete tanti like per il mio nuovo iphone e noi ci vediamo al prossimo video ciao